Matteo Mainardi le tv non ne hanno parlato c'è stata una sola giornata in cui si è parlato della nostra proposta ilige quando abbiamo mandato in onda quel video non so se ve lo ricordate di Piera la signora che poi è andata in Svizzera in sei mesi quindi un giorno come organizzazione diciamo che come mobilitazione soprattutto è andata molto bene abbiamo avuto oltre 2000 militanti oltre all'incirca 3000 persone che si sono mobilitate con l'applicazione facebook creata da Miai Romanciuk e soprattutto abbiamo avuto quasi 300 autenticatori gratuiti quindi consiglieri comunali cancellieri che si sono mobilitati quindi per quella che è stata l'informazione questa campagna è comunque stato un successo finora grazie Matteo grazie grazie